Buongiorno, sono Massimo Torsani, l'autore dell'opera Tramonto in campeggio. Ho conosciuto il concorso in seguito ad una ricerca su internet per pubblicizzare i libri da me scritti. L'idea di questa sceneggiatura nasce un po' per caso pensando ad esperienze personali. L'ambientazione della vicenda principale è in un campeggio in Sardegna, poi ci sono dei flashback che rimandano a vicende che si svolgono in passato in una grande città. In effetti in quest'opera c'è molto di me perché lavoro in un campeggio, esco in mare con la barca, anzi devo dire che gli episodi citati nella sceneggiatura sono tutti veri e capitati a me personalmente, ed amo la zona della Sardegna in cui è ambientata la vicenda. Quest'opera è sicuramente adatta ad una trasposizione cinematografica perché si tratta di una sceneggiatura scritta appositamente per il cinema. Questa sceneggiatura è stata presentata nel 2020 alla diciannovesima edizione del RIF, Rome Independent Film Festival, dove si è classificata tra i tre finalisti della sezione sceneggiatura per lungometraggi. Sto continuando a scrivere i romanzi della serie di Fabio Marella, il manutentore investigatore, ne sono stati pubblicati cinque, ho pronto il sesto e sto scrivendo il settimo. Posso aggiungere che in passato ho scritto dei racconti e ho ideato un format per un programma televisivo. L'eventuale realizzazione di un film a partire dalla mia sceneggiatura rappresenterebbe un sogno che si realizza e che ho lungamente cullato, fino a definire delle possibili location per le riprese e delle facilitazioni per lo svolgimento delle stesse. Arrivederci.